Il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale, nei giorni scorsi, a margine di una costante attività di monitoraggio degli scarichi industriali presenti nel territorio di Gela, ha disposto la chiusura di un'attività commerciale adibita al lavaggio auto nel comune in provincia di Caltanissetta. L'attività è risultata essere sprovvista del provvedimento autorizzativo dal punto di vista ambientale. Lo scarico prodotto dall'attività di lavaggio auto finiva direttamente nella fognatura. Per questi motivi l'esercizio commerciale è stato posto sotto sequestro preventivo, mentre il titolare al quale è stata inflitta un'elevata sanzione amministrativa è stato deferito alla locale procura della Repubblica. L'operazione portata a termine dimostra il costante monitoraggio del contesto ambientale da parte del personale della Capitanieria di Porto di Gela su tutto il territorio, con particolare attenzione alle attività che possono danneggiare le risorse idriche.